Nel reparto retrato abbiamo sofferto il primo tempo abbastanza, infatti nel secondo abbiamo preso di più le misure. Penso che sia questione di tempo. Sì, sono contento perché penso che l'anno scorso gli assist sono fatti veramente pochi, quindi iniziare subito con l'assist è stato molto positivo. Poi anche perché ha fatto col caputo che penso che gli serviva come il pane. Senti, con questo modulo, con il 4-4-2, ti senti più facilitato ad andare avanti? Perché una personalità come quella di Donati, che copre la difesa, che copre soprattutto i centrali, ti permette magari di avanzare un po' di più? Sì, col fatto che c'è Donati dalla mia parte sicuramente mi sento più tra quello a spingere. Penso che si sia visto anche sabato, soprattutto il secondo tempo. C'è un tuo ex compagno di squadra che in questo momento non sta molto bene, mi riferisco a Balzaretti, per lui si parla di carriera addirittura finita, tu che l'hai conosciuto, ti senti di dire qualcosa? Penso che non sia una cosa facile da mandare giù, comunque rischiare di smettere di giocare a calcio. Io sono stato con lui a Palermo e a me ha insegnato veramente tanto, quindi gli faccio un grosso imbocco al lupo. Senti, vai ancora in bicicletta? No, da piccolo facevo anche ciclismo, poi alla fine ho dovuto scegliere tra calcio e bici e ho scelto il calcio.